L'Università di Genova fa un ottimo lavoro con questo parco, bisogna insieme a loro e insieme agli amici che lo promuovono continuamente riuscirlo a inserire definitivamente all'interno di quel circuito turistico che fa dei parchi, il core business. Da oggi partiranno una serie di iniziative ai giardini Emburi che dureranno alcuni mesi, sicuramente una vetrina importante per la regione Liguria? Sì, assolutamente, i 150 anni rappresentano uno di quegli anniversari che devono essere giustamente festeggiati e ricordati, quindi quello a cui noi vogliamo tendere è che però non siano sempre solo spot per i 130, per i 140, per i 150, ma quello che si fa in questi mesi poi rimanga qualcosa di definitivo per offrirlo a tutti i turisti che decidono di visitare la nostra Liguria anche per visitare i bellissimi parchi che in essa ci sono, primo tra tutti questo di Emburi.